Il Paese è sempre più povero a causa di scelte energetiche e ambientali sbagliate. Il problema oggi per milioni di famiglie italiane non è solo non riuscire a pagare le bollette del gas o dell'elettricità, ma anche riuscire a fare la spesa. L'aumento dei generi alimentari è stato devastante per le famiglie. Basta andare in un mercato. Vi mostro una cosa. Vedete, questa è una zucchina romanesca. Costa al mercato 4 euro al chilo. Questi sono panini all'olio. Li mangiano gli anziani. Costano 4 euro e 10 al chilo. Questo è mezzo litro di latte. Costa 1 euro e 20. Un litro di latte costa 2 euro. E questa è una pera. Costa 4 euro al chilo. Andiamo a fare la spesa. L'aumento dei generi alimentari è diventato terrificante a causa della crisi energetica che voi non volete affrontare perché volete far pagare il prezzo della crisi alle famiglie e non la volete far pagare ai colossi energetici. Ma questo accade non solo perché voi al governo avete dimenticato gli effetti della crisi climatica. Avete dimenticato la siccità di quest'estate. Lo scioglimento dei ghiacciai. La desertificazione delle nostre aree agricole. E nonostante gli allarmi della scienza volete continuare a far dipendere l'Italia dalle fonti fossili, dal gas che è responsabile del riscaldamento globale, del caro energia che determina il salasso economico che gli italiani devono subire.